E' una giornata davvero invernale quella di oggi a Como, una delle prime freddo che si è fatto sentire, si fa sentire, nel corso della notte il termometro è sceso, è precipitato vicino allo zero e poi ovviamente anche qualche fiocco di neve annunciato dagli esperti. Questa mattina in una collina si è visto, anche se non ha causato ovviamente disagi alla circolazione. Neve che potrebbe arrivare a quote collinari, brunate, ad esempio anche nelle prossime ore in serata, nel corso della notte. E poi ancora acqua, la pioggia che praticamente per tutta la settimana non ha dato tregua, come potete vedere anche pioggia, nuvole molto basse quest'oggi che avvolgano praticamente la città e tutto il suo Interland. Grazie. Grazie a tutti.